Ciao tifosi nerazzurri, bentornati! Prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al nostro canale per non perdervi nessuna novità e lasciare quel mi piace per rafforzare la nostra passione per l'Inter. Oggi porto notizie che riempiranno i nostri cuori di gioia ed eccitazione. Marco Bellinazzo, in un'intervista esclusiva al Sole 24 Ore, ha svelato dettagli entusiasmanti sul nuovo stadio del nostro amato club. Nei prossimi mesi l'Inter effettuerà una due diligence sul campo e uno studio di fattibilità per il nuovo stadio. Ciò significa che ci stiamo avvicinando sempre di più ad avere un posto veramente nostro dove vibrare insieme in ogni partita. Ma la notizia più entusiasmante è che il comune di Rozzano sta per approvare la variante al piano di governo del territorio. Questo è fondamentale per consentire l'espletamento dell'Inter burocratico in tempi record riesci a immaginare di poter cantare e sostenere la nostra squadra in uno stadio moderno e imponente? Sta diventando realtà grazie all'instancabile impegno dell'Inter e di tutti noi fedelissimi i tifosi. La location scelta è semplicemente perfetta. A meno di un chilometro dal forum, ben collegato e con tutti i servizi di cui abbiamo bisogno. Sappiamo che sussistono alcune limitazioni dovute alla presenza del centro commerciale a Sago e di altre strutture commerciali. Ma state tranquilli, il nostro presidente, Steven Jung, è determinato a prendere in considerazione la costruzione di altre strutture sportive o addirittura di un museo del club. È la tua occasione per trasformare questo stadio in una vera casa, piena di storie e ricordi gloriosi. A. L'abilità Coraggio! Il nuovo stadio dovrebbe contenere circa 70.000 posti, l'equivalente del nostro amato San Siro. Immaginate Marassi ruggente di passione e tifo incondizionato per l'Inter. Con tutta la struttura e la tecnologia all'avanguardia, questo sogno sta diventando sempre più tangibile. Certo, tutto questo non sarebbe possibile senza l'impegno dei veri protagonisti di questa storia, voi tifosi dell'Inter. Siamo la forza che guida il club e insieme siamo imbattibili. Quindi restiamo uniti, condividendo questa notizia affinché tutto il mondo veda l'enormità della nostra passione. Lascia nei commenti cosa ne pensi di questa fantastica novità. La tua opinione è essenziale per noi e non vediamo l'ora di condividere questo momento unico con tutti voi. Il nostro nuovo stadio è più vicino che mai e insieme raggiungeremo orizzonti mai immaginati prima. Forza Inter!